Per loro le gabbie del Parco di Cavriglia si erano aperte nel 2016 quando i 17 macachi giapponesi furono portati in Olanda in un centro di recupero per animali esotici, ma adesso le scimmie sono tornate nuovamente in Italia finendo ancora una volta in uno zoo. Questo è inaccettabile perché questo volevamo evitare fin dall'inizio della storia del nostro progetto portato avanti fino ad un certo punto con il Parco di Cavriglia, con le istituzioni di Cavriglia. Il trasferimento in Olanda dei macachi che vivevano all'interno di una struttura ritenuta fatiscente venne proposto inizialmente dalla Lial di Arezzo, l'associazione che fu anche promotrice del progetto di chiusura della struttura di Cavriglia. Il primo accordo che noi prendemmo fu che le scimmie non sarebbero mai state cedute a laboratori di ricerca medica. Poi i contatti passarono all'amministrazione comunale. A quel punto del progetto Lial venne estromessa dal progetto, non ricevemmo aggiornamenti e il comune portò avanti il progetto con un'altra associazione animalista. Noi abbiamo preso i contatti, li abbiamo passati al comune e alle istituzioni spettava prendere gli accordi definitivi con l'associazione olandese, perché quando si cedono animali si fa un passaggio di proprietà. Noi abbiamo fatto da intermediari, non potevamo certo firmare accordi con l'associazione olandese. Questo aspettava chi ha ceduto gli animali. Adesso 17 macachi si trovano allo zoo di Napoli. Andremo a vedere come sono ospitate a Napoli. Cosa faremo? Cercheremo di continuare a fare opera di sensibilizzazione perché gli animali in futuro siano trattati con maggiore rispetto.